Oh ma Dio! Oh ma co... ma co... ma dove sono? Pensai che prima mi stavo facendo panino. Panino! Aspetta, ma cos'è questo mondo? È... è... è meraviglioso, tanto meraviglioso. O forse no, dovrei dire. Credo che dovrò vivere in questo posto con le mie mani. Credo che dovrò vivere qua. Però con un altro nome, cuore. E basta con sti fulmini! Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ed è alquanto... Alquanto breve. Lo so, sì lo so. Se volete far continuare questi piccoli episodi che stavolta non dureranno tipo 30 secondi. Oppure un minuto, tipo... Dureranno tre minuti. Piccolo della giornata. Dovete fare questo. Lasciare like. Iscriversi. E... la cosa... Un'altra cosa, e poi c'è l'ultima. Cliccare sulla campanellina per non perverti... Per non pervervi nessuno dei miei video. E ultima, ma non ultima... Chiamarmi cuore. Quindi ragazzi, ci rivedremo in un prossimo episodio di queste cose. E niente... Grazie! 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 Grazie!